Siamo con Michele Boscacci a Rifugio Salmurano. Tra pochi giorni qui si corre la vertica della Cresidea in notturna. Ci sarai? Sì, sì. Sabato sera penso di essere qui a fare la gara di Ciegao, anche perché l'anno scorso non l'hanno disputata per mancanza di neve. Quest'anno ci tengo ad essere presente. Hai anche provato il tracciato? Com'è? Sì, la stradina è quella per allenarsi, però non sembra male, è abbastanza bella. La neve in basso è un po' piovuto, però sopra ha fatto una leggera nevicatina, quindi è abbastanza veloce. Penso che può risultare una buona gara. Per quanto ti riguarda, come stai? Adesso sono appena uscito da questa influenza. Non sembra che sto male, però vedremo sabato la classifica cosa ci dirà. Chi temi maggiormente? Ma tutti. Una gara alla fine non si sa mai cosa può succedere, però so già che viene Olse, viene Robert, viene Pedrini, quindi bisogna restare attenti a tutti, perché sono tutti inguerriti. Beh, allora ti aspettiamo al traguardo. Sì, sì, senz'altro.